L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi furiosa, la reazione shock in studio Buffera all'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi perde le staffe in diretta tv Alessia Marcuzzi perde le staffe in diretta tv durante l'ultima puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018, dove l'abbiamo vista scagliarsi duramente nei confronti di Eva Henger dopo la clamorosa polemica dello scandalo droga che in queste settimane ha fatto il giro del web e dei social e che ha scatenato non poche discussioni tra i fan stessi della trasmissione condotta dalla Marcuzzi Ma il colpo di grazia finale cè stato nel corso della diretta dell'Isola di ieri sera, dove la Marcuzzi ha perso letteralmente il controllo della situazione e si è lasciata andare ad un duro sfogo contro la Henger Alessia Marcuzzi perde le staffe all'Isola dei Famosi Nel dettaglio abbiamo visto che Alessia Marcuzzi in diretta ha puntato il dito contro la Henger che quasi sembrava stufa del fatto che in trasmissione si continuasse a parlare dello scandalo droga dopo che le avrebbero detto di non parlarne più e a quel punto la conduttrice dell'Isola dei Famosi è sbroccata, ribadendo ad Eva che la trasmissione è sua e decide lei cosa fare e cosa no E poi ancora abbiamo visto che la Marcuzzi nel corso del suo sfogo si è lasciata andare a delle frasi che sono state definite sessiste sul mondo social La padrona di casa dell'Isola dei Famosi, infatti, ha rinfacciato ad Eva di non averla mai giudicata o di aver fatto la moralista con lei, quasi come se avesse voluto sottolineare che dato il suo pasato da attrice di film porno, avrebbe potuto farlo La padrona di casa Scontro in diretta tv all'Isola dei Famosi E pensare che proprio nel corso della puntata dell'Isola trasmessa ieri sera in tv si era parlato di solidarietà femminile e di gioco di squadra tra donne, ma tutte le belle parole di Alessia sono state spazzate via da questi riferimenti allusivi al passato da pornoattrice della Henger Intanto cè da scommettere che dopo questo duro scontro avvenuto in diretta tra la Henger e la Marcuzzi, striscia la notizia approfondirà la vicenda e questa sera nel corso della nuova puntata del Tg Satirico non si escludono nuovi attacchi nei confronti della conduttrice Cancelletto Isola dei Famosi Cancelletto Isola dei Famosi Cancelletto Isola dei Famosi